Arrivano i profughi, il primo caso di accoglienza a cittadella, il quartiere è già in rivolta. Avviata una raccolta firme tra i residenti di via 2 Giugno nella città Murata, nella zona in cui si trova un'abitazione della Caritas parrocchiale, dove da circa una settimana è stata ospitata una famiglia di profughi scappati dalla Libia, padre di origine ganese, madre nigeriana e figlioletta di un anno e mezzo, con un fratellino in arrivo. La preoccupazione dei cittadellesi non sarebbe legata alla presenza della famiglia, ma esigono dall'amministrazione della parrocchia rassicurazioni sul fatto che non arrivino altri disperati nello stesso edificio. Edificio tra l'altro sottoposto a verifiche da parte degli uffici comunali tecnici, secondo l'ordinanza del sindaco. Chiedono più stretta sorveglianza nella petizione che consegneranno in municipio e d'altro canto un gruppo di volontari si è attivato per rendere più semplice l'adattamento alla famiglia, a cominciare da un corso di lingua italiana che i coniugi stanno frequentando.